Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai ASMA, ed vai con lo scrocchio del braccio, e si è che è qua il mio comito basso, vabbè Ciao creatura, grazie per essere mia compagnia anche questa sera, grazie per il tuo like e per il tuo commento random, oppure se vuoi consigliare e dare qualche opinione a riguardo del video, i tuoi commenti sono sempre ben accetti Allora, ho deciso di realizzare questo semplice cheat chat dove parliamo insieme e sai, lo sto registrando, sto registrando tutti i video insieme perché finché ho la voce la uso, ok? Sì, sono struccata, ossia buttata un po' male, però sai che sono malata e però ne approfitto perché poi ti farò sapere il perché anche mi sto portando avanti con i video vedremo, non mi sbilancio per adesso, poi dopo quando sarà il momento ti dirò Allora, ho il quaderno qua dove mi segno tutte le cose, che è un quaderno nero ovviamente ho acquistato su Appdaction, allora mi sono segnata alcune cose da fare che ho pensato cose che piacerebbe fare a me, o che farò, o che mi piace fare cose che mi piace fare in autunno, o cose da fare in autunno da... per prendersi del tempo per se stessi o magari anche con qualcuno perché no? Però io sono più per la solitaria, per prendersi del tempo per se stessi perché sto bene da sola, io ho il mio interesse e poi dopo ovviamente mi direi se anche tu fai queste cose, se magari vuoi aggiungere nella lista, nella nostra lista del regno di Cossai, altre cose da fare, magari potrei prendere spunto, oppure anche le creature del regno potrebbero prendere spunto allora, cose che mi piace fare sicuramente in autunno sono per le tisane, tè caldo vabbè io il tè proprio lo sto ricominciando bene da poco perché mi dava problemi con la teina ma le tisane come sai ne ho una collezione intera e le adoro di tutti i gusti mi piace berle senza zucchero, alcune sono magari anche amare, quelle troppo amare no però mi piace proprio sentire il gusto reale senza zucchero, ecco, aggiunto alcune hanno già la stevia dentro, altre, quelle di solito con i frutti rossi o quelli al mirtilo di solito sono già molto dolci di loro ne ho un'ultima che ho, che sto bevendo, è quella ai frutti rossi che mi ha regalato Lidl me l'ha regalato perché avendo l'app hai dei coupon, delle cose ogni volta che acquisti ti danno dei gratte e vinci e puoi vincere delle cose ho vinto questa tisana ai frutti rossi, è buonissima, senza zucchero, è un po' aspera mi piace molto, poi ha un bel colore rosso intenso e quindi è una cosa che mi piace molto fare in questo periodo dall'autunno a tutto l'inverno bere bevande calde, tra cui appunto le tisane c'è anche chi si beve quelle bevande tipo al caffè o così speziate ma a me non piace, mi piace di più la tisana che è più disedante, ecco anche più leggera perché comunque nei caffè o nei cappuccini quelli speziati c'è il latte, che il latte comunque non è una peganda ma è un alimento completo quindi è proprio come fare un pasto, non è come bere l'acqua aromatizzata la tisana è come un'acqua aromatizzata per me quindi è, non è una, cioè, ho il mio modo di vedere le cose, lo sai poi, una cosa anche carina da fare, sia in autunno che in, dipende, no, periodo dell'anno anche decorare la casa in tema, in tema autunnale, no non solo per il periodo di Halloween che ormai è passato ma proprio in tema autunnale, quindi mettere, usare i colori autunnali, la palette autunnale l'arancione, i colori che vediamo fuori sulle foglie degli alberi quei colori lì, marrone, rosso, rosso scuro, marrone, rosso mattone magari, ecco marroni, diversi tipi di marrone, dei verdi scuro, verde bottiglia, verde oliva quei colori lì, bellissimi, il giallo, l'arancione, belle, questi colori caldi, molto accoglienti diversi tipi di marrone, altri colori delle castagne, ecco, cose così poi, colorare, magari, immaginatino, questi colori fuori dalla tua finestra poi c'è, fuori, può esserci una giornata da noi sempre nebbiosa, oppure potrebbe piovere e se a casa magari ti sta annoiando e potresti ascoltare un po' di musica o mettere in sottofondo una serie tv, un film, quello che preferisci e ti metti a colorare un bel libro da colorare e un bel coloring book, a tema però, tema tonale, e magari anche ti accendi una bella candela profumata per me è il top del top, il tuo gatto è lì accanto che fa le fuse d'or il paradiso celeste e ho visto, perché me l'ha fatto una creatura del Regno di Gossai mi ha fatto scoprire questa cosa su Shein ci sono un sacco di coloring book che su Amazon costano tre volte più magari Amazon te li consegna subito il giorno dopo anche se in questo periodo ho acquistato da Amazon e ha fatto dei ritardi oppure addirittura non mi ha consegnato i pacchi quindi è da un po' che non ordino da Amazon perché ci sono rimasto un po' così già due o tre volte non mi ha consegnato il pacco oppure me l'ha dato in ritardo quindi ho dovuto annullare già due ordini nello stesso mese, non so cosa sia successo comunque di prodotti diversi allora ho detto, vabbè, allora tanto vuole che aspetto un po' di più se devo aspettare lo stesso tempo e magari non mi arriva neanche lo prendo su Shein che lo pago meno, tre volte di meno su Amazon costa sui 10 euro e su Shein ho visto 2-3 euro e sono uguali, identici hanno tantissimi colori in buca di tantissimi tipi tra cui anche quelli che avevo disegnato io a mano che avevo preso l'ispirazione da TikTok bellissimi quelli con i fantasmini oppure anche cose molto cute bellissimi con gli rossetti, gli animali del bosco da colorare hanno anche tanti mandala e basta mettere coloring book adulti ed ne escono tantissimi poi una cosa che mi piace fare in questo periodo sono le ricette con la zucca e possono essere pane alla zucca torta alla zucca risotto alla zucca o semplicemente la zucca al forno che secondo me è una delle cose più buone che io tanto tempo fa la mangiavo come dessert senza zucchero perché la zucca è già da dolce di suono dipende da anche la tipologia di zucca che acquisti a volte ci va un po' male perché magari si compra una zucca che non sa di nulla e purtroppo quando la zucca è meno saporita io ci faccio il pane e invece quando è buona o buonissima me la mangio così oppure ci faccio il risotto insomma me la cavo così anche torta alla zucca e torta alla zucca l'ho scritta ma in realtà ne ho fatta una tanto tempo fa ma non ero ancora brava a cucinare e vorrei ma secondo me ne avevo scelta una anche troppo difficile vorrei provare a farne una in casa di torta alla zucca se hai qualche suggerimento o ricetta fammelo sapere non deve essere per forza una torta dolce anzi mi piacerebbe fare una torta salata alla zucca magari la zucca e gorgonzola o avvola però forse gorgonzola copre troppo il gusto della zucca non lo so magari meglio di no e allora facciamo zucca e un altro formaggio un po' più delicato magari e comunque i pezzettini di zucca anche da smangiocchiare così fatti semplicemente al forno sono una vera delizia tra l'altro la zucca la mangio anche Sam e le piace molto perché Sam è molto golosa di cibo e a lui piace secondo me è un gatto vegetariano però paradossalmente se le fai scegliere tra zucca e salame lei sceglie zucca salame non le piace strano no? visto che si dice che i gatti sono carnivori in realtà Sam è onnivora perché letteralmente tra il salame e la zucca lei sceglierebbe la zucca beh se no non sarebbe il mio gatto se fosse normale se fosse un gatto neurotipico poi chissà se ci sono le neurodivergenze anche tra i gatti poi un'altra cosa bellissima a fare in questo periodo autunnale è una bella, bella, bella passeggiata tra le foglie tra le foglie secche ancora meglio ho scritto se piove perché immaginate questo scenario sei in un parco in un luogo dove ci sono degli alberi con i soliti colori che abbiamo descritto prima più vicina il tuo ombrellino quindi senti il rumore la pioggia che cade che cade sopra il tuo ombrellino tu sei protetta hai il tuo super outfit autunnale e vicina stai passeggiando e senti il suono delle foglie secche che si scretolano si arricciano sotto i tuoi passi quindi la pace proprio il suono della pioggia senza vento perché il vento non mi piace magari qualcosa di lieve ma proprio quel che ti basta per farti fare quel brividino che piace a me quando sei comunque protetta al caldo e magari solo una piccola parte della tua del tuo viso un po' un freddolito e mi piace proprio la cosa il suono della pioggia sull'ombrello una piaceretina tranquilla e le foglie che scrocchiano sotto i piedi bellissimo super bello poi e poi riallacciandomi alla decorazione a tema per la casa non è necessario acquistarle perché possiamo anche durante la passeggiata raccogliere qualcosina magari delle foglie secche che ci piacciono particolarmente magari non per forza secche anche solo cadute a terra quelle non mi ricordo l'albero ma ci sono delle foglie che sono bellissime come le mani e hanno dei colori rossi bellissimi e sono del rosso dell'arancione e del giallo quelle sono bellissime secondo me da raccogliere e anche le castagne non per forza quelle commestibili si può raccogliere anche quelle che non si mangiano noi qui ne abbiamo e raccolte semplicemente per fare delle decorazioni in casa magari anche dipende dalla visitazione che ti sta attorno anche qualche chianda o cose così raccolte e poi dopo magari a casa si pensa come poterle utilizzare anche magari ispirandoci a qualche video o magari su pinterest ci sono tante tante idee che le persone propongono prendere spunto quella e poi in base a quello che si ha a creare io adoro queste cose mi stava cadendo il microfono poi se c'è anche qualche sagra a tema a volte anche nei paesini forse di più nei paesini nostri non lo so se queste fiere queste sagre le fanno nei paesi nelle città grandi ma nei paesini attorno qui in campagna il cane della vicina sotto la mia finestra che appaia ma vabbè vedrai i dettagli comunque stavo dicendo nei paesini qui attorno al mio fanno si usa a fare queste sagre a tema autunnale non so la la sagra della castagna dei marroni delle caldarroste la sagra dell'ognocco non so se la festa della zucca l'hanno fatta al mio paese insomma queste queste piccole sagre dove c'è come tema principale un piatto magari tipico o del periodo o del luogo ed è bello andarci perché intanto si mangia cosa che mi piace tanto fare ma poi magari sono cibi che normalmente non trovi in giro oppure comunque la zucca si la puoi trovare a casa la puoi fare a casa però è bello perché è a tema del periodo e quindi amico se è a tema piacciono e se non l'hai mai visitata ti consiglio appunto di provare questa esperienza sembra una cosa così banale oppure da vecchi e da boomer però in realtà è una come esperienza secondo me una volta nella vita si può fare dopo magari potrebbe piacerti andare a cercare altre sacre a tema io ero andata a quella del baccalà una volta molto buona e dipende anche ci puoi andare da solo oppure magari se è la tua prima volta puoi andare anche in compagnia devi trovare persone a cui piace quell'alimento lì insomma che vogliono fare la tua stessa esperienza per la prima volta qualche amica amico o parente ok poi l'ultimo l'ultima cosa l'ultima cosa da fare che mi sono segnata e che ti voglio proporre anche questa cosa che io faccio per me stessa tu la puoi fare per te stessa o anche sì allora per te stessa perché quello è lo scopo è ricreare come ho fatto io anche per il canale ricreare un outfit che secondo te è perfetto per l'ottunno che ti fa sentire bella e che sia te ma autunno e puoi uscire con questo outfit e per te stessa non per mostrare qualcosa a qualcuno puoi farlo da sola oppure puoi farlo insieme alle tue amiche se ti piace di più l'idea di non essere da sola ecco se ti diverte di più farlo in compagnia però è bellissimo anche farlo da soli proprio prendersi questo momento e dire wow adesso guardo l'armadio e cerco di abbinare le cose in tema autunnale con i colori autunnali in base anche a quanto freddo favore in base a quello che hai e poi esco mi faccio una bella passeggiata con il mio outfit autunnale semplicemente per me stessa questo te lo propongo oltre all'outfit potresti abbinare anche un make up a tema è molto rilassante secondo me è divertente questa cosa e quindi puoi decidere di fare queste cose durante il mese di novembre perché poi dopo per dicembre fare molte cose e e quindi insomma hai ne hai di cose da fare dai da colorare tutto il tuo album da colorare magari guardare dei film a tema a tema o delle serie che serie mi consigli adesso io sto guardando ancora sto finendo di vedere holy murder in the building murder in the building che ha stramo ha proprio anche un po' vibes autunnali mi dispiace finirla quindi non lo sto guardando guardo solo nel weekend anche perché non lo avete effettivamente durante la settimana però è troppo bella mi sto piacendo tantissimo e un po' mi dispiace finirla a piangere però sì non ho voluto proporti cose chissà cosa ci ho proposto cose semplici fattibili per tutte sia in compagnia che da soli e fammi sapere tu cosa ti piace fare e cosa vorresti fare e cosa mi proponi di fare in questo mese grazie per essere stato in mia compagnia anche questa sera grazie per il tuo supporto come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura